Ho ho ho, è Natale! No, non è Natale. Salve amici e benvenuti in questo nuovo video. Natale è ormai alle porte e questo Natale è per tutti noi un Natale un po' diverso dagli altri. Un Natale strano. Un Natale sicuramente lontano dalle persone che amiamo, dai nostri amici, tanti dalla famiglia. C'è qualcuno più fortunato che ha la famiglia in casa e c'è qualcuno che non ce l'ha. E ci sono tante persone che vivono da sole e questo mi dispiace. Ma non rattristiamoci troppo e cerchiamo di pensare positivo. Lo so, è difficile perché è un periodo molto strano... Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Ma non è ancora Natale, comunque. Quindi, amici, mi è venuta l'idea per fare questo video. Avete presente Mamma ho perso l'aereo? Chi non l'ha visto? L'hai visto? L'hai visto? Sì, l'abbiamo visto tutti. È un film cult di Natale. L'idea è questa. Come sarebbe Mamma ho perso l'aereo nel Natale del 2020? Nella Natale del 2020? Mia! Siamo in ritardo! Oh no! Anna! Andiamo! Oddio, è tardissimo! Siamo in ritardo! Qual è? 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 Ciao! Ma nemmeno tanto! Mami! Siamo in ritardo! Hai visto che, sad, fe겠죠? Quei sensi che appfiguriamo tutti si spieg banqueti siamo in ritardissimo tutto bene amore? dove andiamo mamma? andiamo dai nonni amore sei felice? abbiamo tutto le mascherine? la mochina? mamma, papà mamma, papà ma dove siete? mamma, papà i miei genitori sono dai nonni e io sono da sola a casa miei genitori sono dai nonni e io sono da sola a casa grazie a tutti 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 Dov'è Lara? Ci siamo dimenticati Lara Oh no, Lara Babbo Tone, vorrei la mia famiglia Ecco, questo sarebbe stato Mamma ho perso l'aereo nel Natale del 2020, secondo me Spero che questo video vi abbia regalato un sorriso E auguro a tutti voi, vicini o lontani dalla vostra famiglia Di passare un Natale felice e sereno Un abbraccio da Marco Al prossimo video Ciao Ops, scordavo di dirvi una cosa La qualità degli altri video che ci sono sul canale Chiaramente non è la massima Sono stati fatti 13, 14, 15 anni fa Quindi se avete voglia, dateli un'occhiata I video più vecchi hanno una qualità pessima Però fanno sorridere Sono video fatti con una produzione molto limitata di 13, 14 anni fa Se avete voglia, mettete un mi piace anche a quei video E dateli un'occhiata Un abbraccio, ciao